Mi potrei accorgere. Da che cosa mi potrei accorgere che esiste la reincarnazione? Commento. Basterebbe che ti guardassi intorno per vedere gli altri uomini simili a te. Basterebbe che ti guardassi intorno per vedere alcune forme animali simili a voi. Basterebbe che ti guardassi intorno per vedere alcune forme vegetali simili agli animali. Basterebbe che ti guardassi intorno per vedere alcune forme minerali simili a voi, come la lava.